Abbiamo ricevuto l'ok a partire, ultime spiegazioni. Partenza regolare in questa pratica batteria a 70 metri. Andiamo, 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 da adesso due giri, da adesso due giri. Il gruppo viene abbastanza, abbastanza, come gente, abbastanza vicini. Andiamo verso l'antimità di giro. Un giro in mezzo. Con la punta numero 78. Gaia è guardando. Ancora in giro, Gaia, ancora in giro! Gaia, ancora in giro! Siamo bravo, andiamo, andiamo, un'altra metà qui, forza ragazzi, vai, due metà, vicinissime, vicinissime. Chiude, Amelia con tempo di 1,30 e 22. Seconda batteria, andiamo già. Questa regolare per queste giovanissime femmine, per i loro 600 metri. Ragazze, da adesso due giri, da ora due giri. Ragazze! 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 vai ragazze, buon giro buona buona 74 media in questo momento è un vantaggio un buon vantaggio e andiamo a chiudere siamo un titolo di la cittura di questa sempre con la media un vantaggio un buon vantaggio direi l'ultimo di 40 metri in palazza per la media guardate guardate il tempo basta, basta, basta tempo di 1.18.32 allora andiamo alla terza batteria la terza batteria senza batteria il buon vantaggio da adesso due giri due giri basta ragazzi non gioca più tempo non è una gara qualifica è una gara a tempo mi sembra che c'erano tre e se si stanno giocando giocando la quarta con toncina dai ragazzi questo è poco la campana che è così l'ultimo giro da adesso un giro vantaggio ragazzi e andiamo dai che ha dato ancora un bel giro di pista che ha capito 3 a 3 si giocheranno si trova finalmente il finale su questo lecchimio ultimi 50 metri ultimi 50 metri chiude gran vita con il tempo di 1.26 guarda la batteria abbiamo giri ok ce l'abbiamo facendo regolare per questa quarta batteria quarta batteria da adesso due giri ragazzi da adesso un giro allora vai da adesso un giro ancora un giro 3 a 3 3 a 3 che si giocano la vittoria forza ragazzi insieme a Kroi in questo momento in un salto la battaglia buon battaglia dai Kroi è sul tempo la casinica si gioca sul tempo tutta adesso chiude la tempo 1.17 8 a 3 il signor 1.4 1.12 2.5 6.0 3.19 2.7 2.5 3.0 3.8 4.5 4.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.8 Allora, dai ragazzi, d'acqua il progetto, d'acqua il tiro, d'acqua il testo, è l'animo 3 che 6 enta in battaglio ma sono stato un scherzo, un fine. Allora, dai ragazzi, abbiamo trovato i soldi, la prima è l'animo 3 che è un giusto, è il giusto, è l'animo 3 che è il giusto, è il giusto. Grazie